Ritrovato il reperto di un'antica nave da carico genovese affondata nel 1491 nello specchio di mare antistante la città di Agropoli, nella zona tra la Licina e il Fortino, causa la mareggiata degli ultimi giorni, a ritrovare il pezzo è stato Carlo Scalzone, il reperto di circa un metro, presenta ancora i chiodi che fissavano il fasciame all'ossatura della nave. Una volta ritrovato è stato custodito all'interno di uno stabilimento balneare, per poi essere consegnato alla Polizia Municipale. Il relitto fu ritrovato nel lontano 2000 per bloccarne lo sfaldamento, era stata anche creata una gabbia di pietre, ma che purtroppo non è servita a nulla. Il fasciame fu depositato nell'antiquarium grazie all'intervento della Polizia Municipale di Agropoli. Era l'anno 2000, quando l'agropolese Vincenzo Merola si tuffò dalla sua barca, nello specchio di mare tra il Fortino e la Licina. Quel giorno, mentre nuotava in quelle acque, improvvisamente notò il fasciame di un'antica nave semisommersa dalla sabbia, ritrovando anche alcuni cannoni. Il giorno seguente fu fatta un'ulteriore esplorazione, trovando una palla da cannone in pietra ed alcuni cune in legno. Il ritrovamento fu segnalato presso la Guardia Costerra di Agropoli ed i reperti più leggeri furono consegnati alla Guardia di Finanza. Nell'agosto dello stesso anno, il gruppo archeologico Agropoli, con a capo il professore Piero Cantalupo, recuperò i due cannoni e l'ancora. Il materiale fu depositato nell'antiquarium della città di Agropoli.